La rivoluzione americana. L'unione di tredici colonie. Parole chiave. Colonia, insediamento di una comunità. Madre patria, paese di origine. Puritani, puritani calvinisti inglesi. Tasse, denaro dovuto allo Stato. Rivoluzione, movimento di rinnovo spesso violento. Costituzione, i diritti e doveri basilari sanciti da un documento. Noi dunque, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in congresso generale, facendo appello al supremo giudice del mondo per la rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente pubblichiamo e dichiariamo in nome e con l'autorità del buon popolo di queste colonie che queste colonie unite sono e hanno diritto di essere stati liberi e indipendenti. Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. I possedimenti inglesi. A metà Settecento l'Inghilterra era al centro dell'economia mondo. Nell'America del Nord possedeva 13 colonie. Queste fornivano alla madre patria prodotti locali a prezzi vantaggiosi. Le colonie del Nord sono abitate da puritani che sognano di creare comunità di uomini liberi e uguali. Oltre che agricoltori, sono commercianti e costruttori navali. Le colonie del centro sono abitate da popolazioni di varie origini. Si dedicano prevalentemente al commercio. Nelle colonie del Sud l'economia si basava sulla coltivazione. Grazie a schiavi neri africani. Esportano cotone, tabacco e riso. I coloni. Nonostante le differenze, i coloni delle 13 colonie hanno in comune la fede cristiana, la lingua inglese, le politiche britanniche, la gelosia delle libertà individuali, le idee dell'illuminismo. Il rapporto con gli inglesi. Rispetto all'Inghilterra hanno obblighi e benefici. La madre patria impediva di sviluppare l'artigianato locale obbligandoli ad acquistare i prodotti lavorati in Inghilterra, mantenendo così il vantaggio nell'economia mondo. I coloni non dovevano pagare tasse e ricevevano la protezione dell'esercito britannico. Le premesse Bill of Rights Nel 1764, per pagare le spese militari, l'Inghilterra richiede alle colonie alcune tasse, tra cui quella pesante sul tè. La Costituzione inglese, però, dichiarava che le tasse non approvate da chi le deve pagare non potevano esistere. I coloni americani non avevano rappresentanti al Parlamento. Gli scontri Nel 1773, i coloni, travestiti da indiani, gettano in mare un carico di tè inglese per protesta. Nel 1775, il re invia in America le truppe inglesi per punire i ribelli. Scoppia la Rivoluzione Americana. Gli americani sono comandati dal generale George Washington e aiutati dalla Francia. 4 luglio 1776 I rappresentanti delle 13 colonie a Filadelfia votano la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, basata sugli ideali di libertà, uguaglianza e ricerca della felicità. Stati Uniti d'America La pace Con la firma della pace, nel 1783 nasce la nuova nazione. La Costituzione Nel 1787, la Costituzione comune alle 13 colonie rende gli Stati Uniti una Repubblica federale con divisione dei poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario. Per approfondimenti potete consultare i siti di Cultura Nova Tutto Storia Rai Scuole Grazie, se avete apprezzato questo video mettete like o iscrivetevi al canale. Alla prossima lezione!